ciao allora oggi io le luci fantastiche guardiamo il nuovo catalogo del libro shake l'album numero 3 valido fino al 15 marzo del 2016 vedrete subito i packaging di tanti prodotti sono rinnovati quindi wow un po di primavera un po di rinnovo e poi tanti prodotti in omaggio acquistando 15 euro di altri prodotti ricordatevi bene il prezzo 15 euro perché si avrà mai ne maggio alcuni prodotti acquistandone quelli viso e in altro prodotto acquistando tutto il catalogo quindi ora ve lo mostro meglio nelle sfogliando l'album comunque ricordatevi il prezzo e direi non parliamo oltre e sfogliamo il catalogo allora eccoci questo è un album con tante tante promozioni quindi direi di cominciare subito allora intanto vedete eccolo qui che ed è sia in omaggio lo shampoo trattamento nutriente questo da 30 ml con un acquisto formato viaggio aspettate teniamo avanti con un acquisto si vede qui in alto eccolo di 15 euro su queste linee di prodotti quindi queste che vi mostro e abbiamo anche tante novità tante promozioni e soprattutto e abbiamo rifatto il packaging a tanti prodotti qui è sempre si vede qui in alto ogni 15 euro di prodotti viso sia il lello shampoo in omaggio eccolo anche tra questi 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 ancora ecco tutte le linee viso quindi e ci fermiamo qui a questa pagina qua con la serum vegetale poi da questo momento con e le prodotti per lo struccaggio alla fine del catalogo quindi tutto quanto sia in omaggio e ora ve lo mostro eccolo qui è uno di questi trattamenti in formato da viaggio quindi per 7 giorni trattamento della serum vegetale e si può scegliere tra il trattamento modellante levigante oppure rimpolpante ogni 15 euro da i prodotti struccanti alla fine del catalogo scegliete il codice e se è in omaggio quello quindi adesso torniamo a vedere da qui quindi da questa pagina fino alla fine del catalogo vediamo subito la prima promozione eccola qui non so da spostare spostiamola qui in fondo abbiamo a 7,95 ed è il set che comprende il gommage goloso e la maschera effetto ghiaccio e mirtilli altro set 9,95 eccolo qui la linea pool system abbiamo il detergente e il tonico ed è quello purificante oppure la linea sebo vegetale sempre 9,95 il gel detergente purificante e l'acqua micellare purificante 2 in 1 linea sensitive vegetale quella per la pelle sensibile il latte detergente e l'acqua micellare idra vegetale sempre il detergente ed è il tonico 7,95 in questo caso e ora iniziamo a vedere i trattamenti e le novità perché ci sono gli idratanti corpo che abbiamo delle nuove intanto un nuovo packaging per tutti e anche delle novità qui abbiamo ad esempio ed è questo l'olio sotto la doccia che è deterge e idrata e abbiamo come novità l'olio bifasico sublimatore eccolo qua oppure abbiamo delle novità anche la confezione nuova crema nutriente 3 in 1 abbiamo come novità il latte nutriente oppure sempre i trattamenti vegetali questo invece idratante l'acqua idratante con il nuovo packaging e la novità è il latte idratante vediamo anche che hanno rifatto il packaging e il packaging la confezione a questi prodotti e li hanno anche modificati quindi gommage vegetale hanno rifatto la confezione poi abbiamo la mousse idratante anti ricercita che è completamente nuovo e gel fresco gambe leggere che inizia in primavera a essere abbastanza comodo ed hanno rifatto la confezione eccoci ora alla novità del catalogo perché abbiamo il fondotinta cushion pur light che cos'è? è uno di quei fondotinta cushion quindi a cuscinetto che si vedono tanto ultimamente per le varie marche e ovviamente non si poteva far scappare anche il libro chef i colori sono questi quindi davvero tutti i colori questa è la confezione e si utilizza in questo modo quindi si preleva ed è il prodotto dal cuscinetto e si applica eccolo qui quindi è davvero facile e poi ha la confezione che si richiude lo specchietto e quindi è perfetto da portarsi anche in giro vediamo ora intanto la novità e poi sappiamo che inizia il periodo della festa dei papà quindi ora vi mostro questa novità che è la linea Curve Tiver che comprende le de toilette, il gel doccia corpo e capelli e il deodorante profumato poi c'è il set per la festa dei papà che comprende tutti e tre prodotti a 39,95 quindi è una promozione e ovviamente anche di tutti gli altri prodotti da uomo per la festa dei papà hanno le promozioni vediamo infatti il set questo è 14,95 che comprende il gel da barba, il balsamo dopo barba e il gel detergente viso questo è il 7,95 il gel gommage viso e il gel antifatica oppure stesso prezzo ed è una schiuma da barba, il balsamo dopo barba e il trattamento idratante tra in uno quindi per tutte le linee da uomo promozioni ora per rimettere in sesto anche i capelli con il set perché abbiamo due shampoo ed è quindi due confezioni a solo 5 euro di tutti il shampoo tranne ed è questo che è quello antiforforo che è un trattante e allora 7 euro tutti gli altri sono a 5 quindi due prodotti a 5 euro tutti questi e anche di questi coloranti stessa cosa anche per lo shampoo di tutta la famiglia questa era l'ultima pagina di questo album eccoci, allora abbiamo sfogliato tutto il catalogo, tutte le offerte, promozioni, vi ricordo anche le offerte e i set per la festa di papà vi ricordo che l'album è valido fino al 15 marzo 2016 qui sotto come sempre nell'info box tutti i link per contattarmi, per le informazioni, per gli ordini e per scaricare il catalogo informato PDF così lo potete sfogliare con calma e non mi resta che augurarvi buoni acquisti naturalmente profumati con il magico naturale mondo di Veroci grazie a tutti